Scordata Devo suggerire? Devi stare fuori Che stai Massimo? Oh Silenzio, se no mi cavolo io Silenzio, lasciate sta in pace Massimo Si Stam bene, non va bene No, no, no Questa lì dove ho scritto Per io Ah, Massimo Scusate L'emozione potrebbe farmi Dimenticare qualche una parola Te la suggerisco io Ahahahah Shhh Shhh In una zona Periferica Di Roma Vivo con I ragazzi Molto atleti M'hanno fatto Da proprio Molto atletica E adesso Sono dei giocatori Un metro Il gruppo E' bello che è formato Veramente a livello sportivo Qualcuno Qualcuno Ha anche imparato Anche ad un livello educativo Borgone Borgone Don Bosco La gente La gente è sempre qui con te Non disperare Quando perdi Dagli dentro Che li riprendi Se a volte Se a volte Qualche tiro Puoi sbagliare Se a volte Però non devi Perderti di coraggio Riprendi Riprendi la palla E vai a segnare Che adesso Che adesso Passi anche Se la ritro Fischia Qualcosa che Non c'era Non contestare Non perdere La testa La partita Ma avanti E adesso Continua a giocare Concentra Forest Borgone Don Bosco La gente grida Qui per te Il coach Grida Dai fai presto E metti la palla Dentro al cesto Borgone Don Bosco La gente è sempre Qui con te Non devi sperare Quando perdi Dagli dentro Che li riprendi Noi dirigenti Vi siamo sempre Vicino Al coach E a tutti voi Giocatori Se qualche volta C'è qualche commentino Per riguardare Tutti i vostri valori Adesso io Cosa vi posso dire Vi auguro un bene Nello sport E nella vita Che possiate Sempre gioire E migliorare di partita In partita Borgone Borgone Don Bosco La gente grida Qui per te Il coach Grida Dai fai presto E metti la palla Dentro al cesto Borgone Don Bosco La gente è sempre Qui con te Non devi sperare Quando perdi Tagli dentro Che li riprendi Borgone Don Bosco La gente grida La gente grida Qui per te Il coach Grida Dai fai presto E metti la palla Dentro al cesto Borgone Don Bosco La gente è sempre Qui con te Non devi sperare Quando perdi Tagli dentro Che li riprendi Che li riprendi E un significato Che li riprendi Che li riprendi Approvarsi